salve a tutti buonasera mi prendo sempre un tempo di benvenuto in modo che tutti abbiano modo di collegarsi come sempre approfitto di questo piccolo spazio per ringraziare le persone che mi permettono di realizzare questi seminari in streaming alberto marco rapaccini le persone che mi sostengono tecnicamente alle quali devo la opportunità di condividere con voi queste serate di pensieri di ragionamenti anche in un certo senso di sconfinamenti di interconnessioni in cui la fotografia è sempre accoppiata a qualcos'altro questa traccia che mi sono data in modo all'inizio abbastanza istintivo e che poi è diventata una specie di contenitore in cui la fotografia dialoga con altre sfere della conoscenza della civiltà e si rapporta con queste dimensioni naturalmente sono delle scatole che potrebbero fornire spunti diversi potrebbero essere abitate da diversi fotografi da diversi protagonisti della storia della fotografia del passato e del presente quelli che io mi ritrovo a scegliere sono i fotografi con cui mi viene spontaneo dialogare in questi giorni di interrogazioni di domande di necessità di un dialogo che infatti come è accaduto negli ultimi seminari si è aperto anche a un dialogo più ampio con pensatori con scrittori come a chiedere loro di fornirci qualche parola qualche pensiero per orientarci in questo tempo così anomalo così strano per noi così nero anche per certi versi allora oggi anche io ho dialogato con un interlocutore un interlocutore col quale dialogo molto spesso uno dei maggiori storici delle immagini di tutti i tempi in particolare del novecento a bivarburg che non sarà oggetto di questo seminario ma che sarà come accade in questi miei queste mie avventure scorribbande del ragionamento sarà piuttosto una guida per trovare le parole giuste per parlare di questo rapporto il rapporto tra fotografia e arte che in questo caso non è un rapporto diretto cioè non voglio evocare solo l'arte della fotografia ma proprio il modo in cui la fotografia ha fatto e fa i conti con l'arte con i capolavori del passato con il patrimonio collettivo che noi abbiamo volenti o nolenti dentro di noi che ci forma dal punto di vista della immaginazione dei canoni estetici e che ci forma anche per contrasto per indicarci delle vie di emancipazione rispetto a delle formule tradizionali allora questo rapporto con l'arte è un rapporto che ho voluto proiettare sulla fotografia italiana facendone una strana genealogia come è nel sottotitolo di questo seminario una genealogia che ha un grande salto generazionale ma che vuole farsi carico proprio di due poli di questo orientamento e uso queste parole che sono proprio delle parole di Warburg la polarità e l'orientamento usate in un'altra direzione due poli sia generazionali che di prospettiva in un certo senso cioè vorrei ragionare su questo rapporto tra arte e fotografia guardando due giganti della fotografia italiana che hanno dedicato soprattutto negli ultimi anni dei progetti alle riproduzioni di opere d'arte e poi due fotografe donne molto giovani che a loro volta hanno messo l'arte dentro la loro arte fotografica facendo i conti in modo più o meno consapevole piuttosto consapevole nel loro caso ma insomma facendosi carico in qualche modo di questo patrimonio che noi abbiamo alle spalle che può diventare o una grande zavorra oppure un grande bagaglio che ci dà gli strumenti per affrontare il linguaggio fotografico e artistico nel presente allora ho detto che avrei utilizzato Abby Warburg e lo farò soltanto per quel che serve dal punto di vista della prospettiva che io vi propongo quindi una postura di osservazione Warburg dopo tutta la sua straordinaria avventura possiamo dire biografia intellettuale come l'ha chiamata Gombrich dedicandogli un bellissimo libro alla fine di questa avventura costellata da studi di grande importanza ma in effetti da una produzione di scrittura sproporzionata rispetto alla entità del suo ragionamento e del suo pensiero come se la scrittura di libri e di saggi non fosse la forma adatta a contenere la mole della sua riflessione e la sua capillarità la sua natura possiamo dire rizomatica veramente capillare che si aggancia a molte discipline diverse che appunto dialoga continuamente con tutte le sfere del sapere e della conoscenza allora la scrittura lineare probabilmente non era la formula giusta per farsi carico di questo potere che Warburg studiava delle immagini e lo studiava soprattutto attraverso una formula possiamo dire usando un'altra parola, usandola in modo improprio ma usando un'altra parola del vocabolario warburgiano la formula diciamo della sopravvivenza dell'antico nell'arte del rinascimento questa era la dicitura la sopravvivenza significa non tanto la copia o l'ispirazione ma proprio ciò che sopravvive malgrado la volontà degli artisti che recuperavano forme che arrivavano dal passato e dall'antichità e le facevano agire dentro la pittura moderna come se queste figure potessero creare un canale di comunicazione tra la cultura del passato, il grande modello ideale della Grecia antica e la cultura del presente, il presente del rinascimento italiano non entrerò in questa affascinante faccenda ma vorrei porla come appunto territorio metodologico per osservare il rapporto tra arte e fotografia soprattutto per quello che dicevo prima è lo sviluppo conclusivo della grande avventura warburgiana ovvero l'Atlante della memoria un Atlante composto da tavole su cui warburg montava delle immagini che non erano altro che riproduzioni di opere d'arte quindi montava di fatto delle fotografie il cui soggetto erano le opere d'arte e le montava seguendo tutta una serie di criteri associativi e anche creando degli incidenti in un certo senso tra le immagini e anche tra le immagini loro stesse tra le immagini e i loro dettagli ingranditi o tra le immagini e le loro fonti più o meno segrete o più o meno nascoste oppure tra le immagini e le loro sorelle sconosciute quelle immagini appunto che avevano delle forme simili e che morfologicamente si abbinavano a queste immagini ma che venivano da culture molto diverse allora l'Atlante della memoria l'Atlante mnemosine questa serie di tavole con cui warburg veramente usa le immagini per spiegare le immagini e arriva a una specie di compimento malgrado l'Atlante non sia compiuto e tutto sommato non si possa compiere considerato che warburg lo voleva come un Atlante della storia della civiltà quindi qualcosa di sterminato ma diciamo in questa forma conclusiva in cui non c'è la linearità della scrittura non c'è il rapporto diciamo di assoggettamento della immagine alla parola ma c'è un confronto diretto dinamico, misterioso e anche in un certo senso magnetico in cui le immagini dialogano le une con le altre e stabiliscono questi campi di forza e di tensione tra il passato e il presente per esempio tra i modelli e le loro reinvenzioni e rimanipolazioni e anche in un certo senso questo passato e presente che è anche un passato e presente generazionale allora mi interessa evocare warburg perché appunto il gruppo di fotografi che ho scelto potrebbero essere i protagonisti di una tavola potrebbero esserlo perché sono dei fotografi che hanno scelto di avere un rapporto col passato col passato nel senso artistico del termine cioè col patrimonio artistico del passato un rapporto diretto addirittura in certi casi possiamo parlare di un corpo a corpo qualcosa che non prende solo il patrimonio come modello ma lo prende addirittura come soggetto non per riprodurlo e diffonderlo ma piuttosto per metterlo al centro di una nuova creazione artistica quindi l'arte come seme dell'arte l'arte del passato come seme dell'arte del presente e il dialogo in questo caso lo ripeto consapevole degli artisti con questo patrimonio che ha modellato il nostro sguardo dico consapevole perché warburg fa un discorso estremamente raffinato rispetto alla posizione dell'artista nel mondo in un testo con cui introduce questo atlante un testo che si trova anche tradotto in italiano in un catalogo della mostra dell'atlante mnemosine nel testo introduttivo del 1929 warburg usa delle parole abbastanza complicate per come dire fantasiosa e la dimensione invece rigorosa matematica come se l'artista fosse al centro in un equilibrio veramente precario tra dimensione religiosa e dimensione scientifica tra il grande movimento delle passioni che si muovono e che muovono l'artista e la sua facoltà di addestrare in un certo senso contenere queste passioni dentro a una forma e quindi dentro a delle linee dei contorni che riescano a preservare questa potenziale vitalità e anche a trasmetterla perseverarla allora lui dice in questo combattimento tra dimensione fobica dimensione emotiva e dimensione scientifico-matematica all'artista viene in aiuto la memoria viene in soccorso la memoria perché quando lui agisce nell'atto creativo attraverso di lui agisce anche il tempo agisce anche una storia delle immagini di cui lui può essere un medium diciamo consapevole o meno ma che senz'altro scorre attraverso il suo gesto artistico il quale non è mai isolato ma si va appunto ad inserire dentro al modo in cui le civiltà decidono di raffigurarsi e di narrarsi allora un artista sempre fa i conti col suo passato artistico e un artista italiano fa i conti necessariamente con un passato che è il fulcro della grande tensione geografica che Warburg riconosce nell'arte soprattutto del Rinascimento che è la tensione tra il Mediterraneo e l'arte fiamminga diciamo il nord e il sud dell'Europa le forme della cultura nordica e le potenze le magie anche in qualche modo della cultura del Mediterraneo allora Mediterraneo è una parola chiave in questa mia riflessione di oggi perché gli artisti italiani che fanno i conti con l'arte del passato hanno un passato importante ingombrante più di altri artisti che provengono da altri territori culturali hanno un passato che diciamo si è cristallizzato in alcune grandi tappe del tempo appunto l'antichità e poi il Rinascimento questi due poli di cui Warburg studiava le sopravvivenze che noi oggi potremmo leggere di nuovo come una grande potenza che ancora sopravvive nel novecento e sopravvive nel novecento attraverso degli strumenti che sono anche degli strumenti di riproduzione di opera d'arte allora questo incastro in cui l'opera d'arte diventa il soggetto della fotografia che può semplicemente riprodurla e garantirne uso un'altra parola di Warburg la migrazione la possibilità di viaggiare nello spazio di alleggerirsi e di andare a contaminare altre culture visive ma può essere invece anche il terreno in cui di nuovo queste grandi opere sono chiamate a esibirsi ad andare in scena ancora una volta ma sotto diciamo lo sguardo culturale del novecento ad essere reinventate e resuscitate fino a dare vita a delle opere in cui loro non sono più le protagoniste ma sono il motore spero che questa introduzione non sia stata troppo criptica ma queste parole usate ci serviranno per osservare alcune opere di alcuni fotografi parto in questa genealogia come è in un certo senso logico e cronologico dagli artisti dai due artisti anziani i due artisti anziani che io ho scelto sono due artisti due fotografi italiani molto attivi ancora attivi hanno fatto la storia della fotografia non solo italiana e negli ultimi anni sono stati protagonisti di progetti che sono appunto l'oggetto della mia riflessione di stasera il primo è naturalmente Mimo Iodice un grandissimo della fotografia italiana che qualche anno fa ha iniziato un suo grande progetto proprio sul Mediterraneo ve ne faccio vedere alcune immagini sebbene suppongo che le conosciate che insomma si trovano molto facilmente sono molto famose sono state oggetto di moltissime mostre e qualche anno fa anche di una importante mostra romana quindi ricordo lunghissime disquisizioni sulle tecniche di stasera come se vedessimo per la prima volta queste statue che fanno parte appunto del grande progetto Mediterraneo sono portatrici di qualcosa di assolutamente indicibile di invisibile di magico e sono qualcosa che in un certo senso noi riconosciamo assolutamente come il nostro patrimonio e allo stesso tempo riconosciamo come qualcosa di estremamente inquietante ci guardano dal loro tempo ci scrutano ci pare anche che in qualche modo ci giudichino noi che siamo i figli e i nipoti di quella civiltà che guardiamo con la grande ammirazione della dell'ideale di una civiltà praticamente perfetta di cui confondiamo i tempi e fatichiamo a orientarci perché tendiamo a vederla come una dimensione originaria che allo stesso tempo è una storia reale e una origine ideale ebbene queste statue che sono quasi sempre statue di divinità che hanno viaggiato nel sud dell'Europa che si sono spostate che sono state sotterrate per anni e che sono riemerse da sottoterra come delle forze che tornano dal regno dei morti e si riaffacciano sul regno dei vivi portando lì il loro sguardo che è uno sguardo enigmatico ed è uno sguardo in un certo senso doloroso ma anche appunto come dicevo giudicante queste sculture sono l'oggetto di una serie di scatti realizzati da Mimmo Iodice nel corso di una lunga progettualità ci impressionano anche e soprattutto per la espressività dei volti noi sappiamo che la statuaria greca aveva questa e poi romana aveva questa grande come dire questo grande segno di equilibrio tra le forme del corpo e le forme del viso aveva questa specie di stoica calma e tranquillità nelle espressioni delle figure le quali erano appunto le rappresentazioni di un equilibrio più grande di loro di cui erano appunto la miniaturizzazione divinità forze tradizioni mitologie dentro queste statue non c'è solo la forma che gli antichi hanno forgiato ma c'è la storia e c'è quel connubio tutto caratteristico dell'antichità del Mediterraneo tra storia e mito il mito esiste in tutte le civiltà ma quello che noi abbiamo elaborato come mitologia nella nostra cultura è un universo complesso che poi si è scontrato con l'avvento del cristianesimo e che ha generato proprio quella grandissima forza di tensione nel rinascimento tra paganesimo e cristianità tra recupero dell'antichità malgrado la cristianizzazione dell'Italia e del sud Europa e il recupero di alcune istanze culturali dell'antichità che alcuni filosofi alcuni intellettuali hanno cercato di innestare sulla cultura cristiana generando in qualche modo una terza via del ragionamento sull'essere umano allora queste sculture ci portano in un certo senso anche questa dimensione perduta questa dimensione spezzata questa dimensione di cui possono essere delle protagoniste mute oppure possono appunto essere riportate in scena e qui Mimmo Iodice le porta sulla scena di una fotografia impeccabile che restituisce loro una espressività eterna forse rinnovando quella eternità di cui loro sono già portatrici e scatenando di nuovo la loro forza e in un certo senso anche la loro nostalgia questa è la grande chiave della memoria come si fa a rendere vive ad esempio delle divinità in cui nessuno crede più e che quindi noi tutti giudichiamo morte e che invece appena sono guardate diciamo con l'attenzione che loro richiedono improvvisamente quella forza pare vibrare ancora nella materia della pietra non faccio nessuna analisi qui siamo su Canova quindi siamo su ancora un altro tempo e un'altra modalità in cui la classicità e il mondo antico abita le forme dei diversi secoli come se l'antichità fosse un modello che si trasforma in base agli occhiali diciamo con cui viene osservato gli occhiali del rinascimento gli occhiali del settecento e poi i nostri occhiali del novecento e in mezzo tutta la grande produzione filosofica e intellettuale su come gestire diciamo il patrimonio culturale dell'antichità vediamo tutto il mediterraneo come se vedessimo i volti i nostri lineamenti in un certo senso come se improvvisamente riconoscessimo ci riconoscessimo dentro queste forme in cui non ci riconosceremmo solo guardando la statua ma che invece ci diventano evidentemente delle madri quando noi le guardiamo in queste fotografie nelle quali loro diventano della stessa materia di cui siamo fatti noi quando veniamo fotografati questa stessa dimensione né viva né morta a cui la fotografia ci destina una volta che ci immortala tenendoci lì in uno spazio parallelo alla vita che appunto è lo spazio in cui noi coabitiamo con le figure del passato e ci riconosciamo loro figlie loro eredi dal punto di vista della nostra stessa presenza inutile dire che la tecnica fotografica diventa una specie di amplificatore della potenza espressiva di queste statue che comunque sono le cose come sappiamo chiunque fa fotografia sono gli oggetti più difficili da fotografare sfuggono completamente al nostro controllo formale ed estetico come se veramente loro fossero le portatrici di quelle parole di Warburg di questo conflitto tra la necessità di contenere e la potenza vitale che passa attraverso le immagini attraverso le raffigurazioni soprattutto le raffigurazioni delle divinità allora quando si riesce invece a creare la fotografia come terra di come dire terra di guado sasso di guado in cui queste statue possono avanzare verso la contemporaneità allora loro lì trovano tutta una rinnovata bellezza trovano anche la loro scena ideale essendo decontestualizzate in qualche modo isolate e finalmente libere di guardarci dal loro tempo che quando diventano soggetti della fotografia è anche il nostro tempo ora ripeto i progetti di Mimmo Iodice sono famosissimi e meriterebbero tutt'altro tipo di approfondimento quello che però invece mi interessava vedere insieme a voi è una delle destinazioni di questa straordinaria produzione una delle destinazioni è questa mostra che Iodice a cui Iodice ha partecipato nel 2005 allestendo una parte della sua produzione sulle sculture in due luoghi di Napoli che è veramente un luogo simbolo del Mediterraneo i due luoghi sono la metropolitana e il museo madre che appunto è il museo dedicato al Mediterraneo bene queste sculture che diventano fotografie e che fanno irruzione nella nostra vita quotidiana nei luoghi di attraversamento nei territori di cui forse in quegli stessi luoghi quelle statue hanno già soggiornato e che nel corso del tempo e delle trasformazioni del tempo diventano si trasfigurano completamente questi luoghi hanno altre destinazioni altri materiali con cui sono costruiti altro tutto e loro tornano lì grazie alla possibilità di migrazione che gli permette la fotografia e si mettono a guardare le persone che attraversano questi spazi o questi non spazi sotto la metropolitana è stato un progetto importante di cui si è scritto molto giustamente e che ha riportato in un certo senso al centro della riflessione questo rapporto che la fotografia contemporanea ritrova con il patrimonio dell'antichità e il modo in cui questo patrimonio esce viene fatto uscire dai musei dove è imprigionato e proprio attraverso la fotografia viene fatto interagire con il nostro presente con il nostro mondo e con la nostra vita addirittura quotidiana questa era invece una parte dell'installazione museale quindi una specie di dialogo tra dentro e fuori una continua un continuo sguardo di queste figure che appunto ci guardano da un altro tempo ma che iniziano anche a intrecciare i loro sguardi nella città di Napoli fino a costruire una rete dentro la quale noi non sappiamo neanche che ci stiamo muovendo in un certo senso ci protegge in un certo senso ci condanna alla nostra disattenzione nei loro nei loro confronti l'altro gigante che io voglio convocare è un altro fotografo io non li ho scelti solo per l'importanza magistrale dei loro progetti ma li ho scelti anche perché sono entrambi i protagonisti di progetti molto recenti in cui appunto hanno riragionato sul patrimonio antico e sul modo in cui questo patrimonio diventa non solo soggetto della fotografia ma appunto trova nella fotografia un luogo di sopravvivenza parlo di Nino Migliori che tra il 2017 scusate il 2018 ha realizzato una mostra o meglio un insieme di mostre che fanno parte del progetto che ha chiamato Lumen un progetto bellissimo da cui ho scelto ad esempio la fotografia di anteprima di questo seminario un progetto che si è diramato in diversi luoghi d'Italia e che ha visto una caratteristica molto particolare del modo di fotografare di Migliori io visto che questo progetto che vi ho fatto vedere di Mimmo Iodici era di Napoli inizio con questa serie di fotografie di Dino Migliori proprio con il progetto che lui ha dedicato al Cristovelato di Napoli il Cristovelato è la scultura scusate come al solito faccio pasticci con le finestre è la scultura di Giuseppe San Martino una scultura della metà del Settecento conservata alla Cappella San Severo di Napoli una scultura strabiliante straordinaria stranissima che noi vediamo in questo spazio piccolo spero immagino che molti di voi l'abbiano vista e soprattutto restiamo subito assolutamente sconvolti dalla capacità dello scultore di velare questa scultura scolpendo un velo sottilissimo sotto il quale il corpo si vede e allo stesso tempo si nasconde c'è ci sono molte leggende su questa statua c'è anche un grande ragionamento diciamo l'influenza dell'alchimia ci sono molti aspetti interessanti che non abbiamo il tempo di approfondire ma senz'altro c'è lo stupore di chi vedeva questa scultura e azzardava delle ipotesi su come era stata realizzata ipotesi naturalmente diciamo infrante dalla evidenza che questa scultura è stata realizzata da un unico blocco sapete che nella scultura c'era questa possibilità di scolpire e assemblare oppure questa grande maestria di far emergere tutta la forma da un unico blocco e in questo caso non ci sono non sono state rivelate giunture né visibili né nascoste ed è molto probabile che questa scultura emerga proprio sia proprio immersa tutta da un unico blocco di materia per chi l'ha vista ricorderà la sensazione strepitosa di questa visione che è appunto una visione quasi onirica e quasi spaventosa noi non riusciamo a capire come la pietra possa essersi fatta così leggera come la pietra possa aver generato questa forma di trasparenza addirittura un velo vero e proprio che ricopre il corpo del cristo e che nino migliori decide di fotografare con una strategia che caratterizza tutta la produzione di questo progetto lumen ovvero fotografare come i contemporanei vedevano queste sculture e quindi al lume di candela la fiamma invece che la luce elettrica la fiamma che si muove la fiamma che non si può direzionare nello stesso modo dei fari la fiamma che rende viva la materia delle statue perché genera ombre rende paurose le sculture perché dà loro delle espressioni mutevoli ma anche la fiamma che per noi ha tutta una serie di valori ipnotici e simbolici e che agisce su questa nostra visione come generando una visione nella visione in cui noi siamo ipnotizzati dal fuoco e allo stesso tempo catturati dalla visione della scultura su cui il fuoco si muove come fosse cosa viva queste fotografie tutte realizzate al lume di candela hanno questa missione di ritrovare proprio attraverso la fotografia uno sguardo del passato qui lo sguardo che ci arriva dal passato non è solo lo sguardo delle statue ma è lo sguardo degli spettatori del passato che improvvisamente rivive dentro le fotografie attraverso le fotografie si cala dentro l'occhio della macchina di Nino Migliori e proietta questo suo sguardo tutto diverso dal nostro sguardo così abituato alla tanta luce il nostro mentre lo sguardo degli osservatori del passato era uno sguardo che cavava dal buio dei dettagli e se riemprimeva nella memoria come a tenerli a sintomo e a simbolo dell'insieme queste fotografie realizzate al nome di Candela ci mostrano un Cristo velato in tutta la sua magia in qualche modo appunto sia la magia di realizzazione che quella di cui è portatore questi sono gli elementi chi di voi ha visto la scultura se ne ricorderà e anche si ricorderà di come appare appunto il corpo di questo Cristo avvolto e in un certo senso trasfigurato dallo stesso velo che rimodella il corpo esattamente come quando noi fotografiamo sappiamo che un velo rompe diffonde la luce e questo genera una visione completamente trasfigurata del soggetto del corpo che sta dietro al velo qui il gioco della luce sta proprio nel gioco della pietra la pietra diventa trasparente la luce che la illumina si trova a percorrere le pieghe di questa carne velata di cui noi non riconosciamo più in nessun modo la consistenza e la materia un corpo fatto di luce è un corpo fatto di pietra ed è grazie a Nino Migliori anche un corpo fatto di fotografia vale la pena che ce lo vediamo senza interferenze e che così ci lasciamo trascinare in questa visione che è una visione allo stesso tempo antica vecchia e moderna la visione appunto di coloro che guardavano la scultura con le fiamme delle torce e la visione di un fotografo che dopo una straordinaria carriera durata moltissimi anni torna lì e si mette nel silenzio di quel piccolissimo spazio a guardare attraverso una macchina fotografica come se fosse una macchina del tempo come se potesse restituirci lo sguardo di chi è vissuto molti anni prima di noi e che è conservato dentro a questo corpo del Cristo che contiene dentro di sé tutti gli sguardi che si sono poggiati su di lui e che di volta in volta riattivano in qualche modo la sua potenza espressiva passo a un altro progetto al progetto bolognese di migliori che è la serie di fotografie realizzate sul compianto del Cristo morto di Niccolò dell'Arca un'opera invece quattrocentesca realizzata tra gli anni sessanta e gli anni novanta del quattrocento e conservata a Santa Maria della vita di Bologna qui noi anche qui per chi ha visto l'opera di queste figurine di terracotta che hanno proprio il colore della terracotta scusate parto piuttosto da un totale perché chi di voi l'ha vista sicuramente qui la riconoscerà un compianto che diciamo ci permette di usare delle parole di Warburg sulla sopravvivenza dell'antico sebbene non sia stato questo oggetto delle sue riflessioni non nello specifico come lo sono stati altri compianti per esempio in cui le figure reagiscono alla morte di Cristo in modo possiamo dire non propriamente cristiano reagiscono con questa enfasi della rappresentazione del dolore che è molto lontano dal codice cristiano della compassione composta del dolore racchiuso ma che invece somiglia molto di più alle espressioni di patos delle figure dell'antichità possedute dalle loro emozioni dal dolore dal furore dalla rabbia e in un certo senso in queste figure femminili che guardano il Cristo noi riconosciamo questa specie di movimento esasperato sono delle figure che compiono un gesto fortissimo dal punto di vista motorio sono figure con le vesti che volano con le espressioni caricate sono figure come colte in un momento di grande come dire di grande patos uso questa parola perché era proprio una parola warburgiana di lui che si metteva allo studio rigoroso di quelle che definiva le formule del patos ovvero quelle formule e non delle forme delle formule nel senso di strutture ripetibili qualcosa che viene coniato e che si può trasmettere nel tempo uguale a se stesso ma il cui contenuto è il patos cioè qualcosa che non si riesce a contenere dentro una forma qualcosa che esplode che fa di queste immagini degli scrigni di emozioni umane che vengono riaperti e scatenati quando noi li guardiamo e li vogliamo osservare risvegliare in qualche modo queste grida mute queste espressioni questa convincente espressività di queste figure distrutte dal dolore addolorate ci proietta veramente dentro una visione che noi abbiamo anche quando vediamo l'originale ma che attraverso le fotografie viene ingigantita ci travolge ci ossessiona ci spaventa ci terrorizza ci trascina in questa dimensione del patos di cui la forma preserva nel tempo persevera nel tempo la potenza espressiva mescolando in un certo senso la dimensione pagana con la dimensione cristiana e proiettando alcune istanze alcune emozioni del passato della civiltà nel presente del quattrocento e ancora di più nel nostro presente in cui la fotografia ritrasforma e ritraduce questa formula sono dei ritratti d'attori possiamo dire sono delle espressioni fortissime sono dei momenti che ci commuovono che ci portano lì dove queste figure stanno a raccontare qualcosa di non personale ma di universale e anche possiamo ben dire di eterno il terzo blocco del progetto che ho scelto non sono gli unici ma migliori ha fatto anche insomma ci sono diverse città che sono state oggetto del suo progetto tutto realizzato ve lo ripeto anche questo qui al lume di candela però io ho scelto dopo Napoli e Bologna ho scelto le fotografie che migliori ha realizzato a Rimini un po' perché si tratta di un luogo strano straordinario affascinante pieno di una simbologia che fa rimbalzare dentro a queste immagini anche tutta una serie di forze addirittura ultraterrene si tratta della cappella dei pianeti e dello zeudiaco del tempio voluto da Sigismondo Malatesta e realizzato da Agostino di Duccio siamo di nuovo nel 400 verso gli anni 50 del 400 e siamo alle prese con delle forme assolutamente simboliche possiamo dire esplicitamente magiche al confine tra l'astrologia la magia e tutti i campi di interesse che appunto in quegli anni riemergevano dall'antichità nello stesso modo in cui riemergevano le sculture e diventavano in un certo senso questo campo di forza in cui gli artisti si trovavano ad agire campo di forza anche perché lo zodiaco era un'altra delle modalità con cui le divinità si erano trasfigurate gli dèi avevano dato nome alle costellazioni erano stati in un certo senso sparati in cielo e lì si erano trasformati in stelle e allora noi potevamo ancora e possiamo ancora guardare venere osservare gli antichi dèi che sono diventati delle piccole luci nel cielo che in un certo senso costituiscono una forza d'azione e questo hanno sempre creduto gli uomini e lo facciamo ogni volta che leggiamo un oroscopo una forza d'azione della sfera magico celeste sulle nostre vite personali individuali una forma di collegamento tra la dimensione razionale e la dimensione magica forse una delle poche sopravvivenze della cultura magica sebbene tradotta rivista e anche ribanalizzata dalla nostra modernità ma che nell'arte italiana vanta alcuni esempi di grandissimo magnetismo la cappella riminese naturalmente è una di questi e il modo in cui migliori sempre con le sue candele con le sue torce il modo in cui migliori la fotografata indubbiamente crea un terzo polo d'azione tra le divinità le stelle sparate in cielo e queste immagini che ci riportano dentro allo zodiaco del tempio diciamo trascinandoci in un altro sistema di valori attraverso l'arte dello scultore che ha realizzato queste forme si riconoscono molte forme dello zodiaco ma illuminate in un modo per cui ci sembrano delle forme viventi delle forme sacre e anche in un certo senso la resistenza delle mostre delle forme profane questa immagine fa parte appunto della serie della nostra della cappella riminese questi sono tutti gli obiettivi che ci diamo quando finirà il nostro isolamento ci sono moltissimi luoghi dove tornare in qualche modo i luoghi da riandare a vedere andare a vedere per la prima volta se non li abbiamo mai visti ma dove tornare invece dopo aver visto il modo in cui sono stati fotografati e in un certo senso proiettando con i nostri occhi queste stratificazioni questa geologia di immagini che abbiamo conservato nella nostra nella nostra memoria visiva gli ultimi due scatti che vi mostro da questa serie perché questo corpo a corpo con la scultura con il passato che sono giovani non sono molto conosciute e che hanno in un certo senso intrapreso delle avventure simili delle avventure artistiche simili parto dalla prima che si chiama Giordana Citti perché questa idea del corpo a corpo è proprio potrebbe essere la definizione di un suo progetto è un progetto che io ho visto da vicino l'ho visto realizzarsi l'ho visto nascere e di cui quindi mi interessa anche parlarvi dal punto di vista tecnico è un progetto che Giordana Citti ha realizzato tutto in analogico scattando in pellicola e creando dei fotomontaggi manuali artigianali sono sandwich è una tecnica di stampa che nelle generazioni di fotografie analogiche era abbastanza praticata e che probabilmente oggi è praticamente in disuso è una fotografa giovane che studia che ha studiato storia dell'arte che poi si forma prettamente come fotografa con una specializzazione in tecniche di camera oscura tecniche analogiche che nel suo primo grosso progetto artistico usa queste tecniche per creare un corpo a corpo reale tra una serie di sculture per lo più fotografate nella centrale Montemartini di Roma e dei corpi a lei cari che hanno in un certo senso subito gli stessi spostamenti di queste statue per esempio che sono state private dei loro spazi naturali e reinstallate dentro a una ex centrale quindi un posto post-industriale in cui si crea un'atmosfera straordinaria di tensione tra passata e presente ma di fatto in cui queste sculture sono in un certo senso deportate impiantate a forza e dove funzionano sono portatrici appunto del polo dell'antichità dentro a un luogo della modernità ma che per noi è già invece un luogo di modernariato in qualche modo quindi una specie di rimbalzo del tempo in cui queste sculture appunto sono state spostate e installate come spesso siamo spostati e installati noi nella nostra vita e questo è uno dei temi di questo progetto di Giordana Citti che prende alla lettera il problema del corpo a corpo e entra in una specie di dialogo sulla materia stessa tra la scultura e la carne spesso si tratta della sua di carne o ripeto della carne di persone a lei care questo va sottolineato perché perché c'è nel suo sguardo sulle sculture e sui corpi possiamo dire lo stesso affetto in qualche modo come se questo marmo potesse vivere il riflesso dei corpi amati dei corpi osservati dei corpi presenti dei corpi vissuti di cui queste sculture diventano degli spettri dei fantasmi delle ombre o forse al contrario non entro nel problema delle interpretazioni delle immagini quello che invece qui è veramente interessante è il modo in cui una giovane fotografa riprende questo rapporto con il passato e lo fa agire non solo sul suo progetto artistico ma sulla sua stessa vita un progetto che è molto autobiografico che parla di lei e che trova nelle antiche sculture veramente una sponda di dialogo che non è solo un dialogo formale ma che è in un certo senso un'interrogazione a questa antica sapienza e di questa antica bellezza di cui questi nostri avi sono portatori questa serie è tratta dal ciclo da questo progetto che si chiama Riabitarsi che è un progetto del 2008 e che poi ha dato vita a una serie di sviluppi sempre diciamo orientati sulla come dire sull'osservazione e la reinvenzione di alcuni capolavori del passato sull'arte di altri tempi che appunto Giordana Citti fa agire in questo caso proprio sul suo corpo ma in generale sulla sua fotografia questa è una delle fotografie centrali di tutto il progetto ma volevo mostrarvi anche alcune immagini dei progetti successivi che in questo caso per esempio vedono la riproduzione di un quadro di Caravaggio sempre in analogico sempre stampato in camera oscura ai sali d'argento in stampe su carta baritata questo è il Cristo della spero di non sbagliare ma mi pare sia il Cristo della Bonmer della chiesa di Marsiglia della buona madre di Marsiglia questa Madonna venerata da tutti da cristiani musulmani perché è la Madonna che veglia sul porto quindi è la protettrice dei marinai di tutti quelli che escono entrano dal porto e che la salutano come la buona madre ed è luogo di pellegrinaggio e di culto sia per la statua della Madonna che si erge sopra alla chiesa sia per questa scultura del Cristo praticamente ormai liso dallo strofinamento dei fedeli che hanno trasfigurato la sua materia a forza di toccarlo per prendere la sua forza sacra e la sua benedizione questo è l'esterno della chiesa della Bonmer e ancora questa specie di pietà in cui il Cristo si fa raccogliere dalla madre siamo sempre a Marsiglia e poi con queste fotografie invece entriamo come era già anche con il quadro del Caravaggio in un problema ancora più grande perché la scultura è senz'altro uno dei soggetti più intriganti per la fotografia in questo ciclo dei seminari abbiamo anche parlato proprio del rapporto tra fotografia e scultura prendendo ad esempio alcuni casi emblematici dell'inizio del novecento ma la pittura è veramente molto più difficile in questo senso ed è un terreno scivoloso è difficile reinterpretarla non è volumetrica è piatta è molto complicato entrare in rapporto creativo con i capolavori della pittura in questo caso del progetto Messier Giordana Citti passa attraverso l'esperienza della pittura che invece è centrale nel progetto dell'altra fotografa che voglio mostrarvi che si chiama Francesca Pietrisanti le ho scelte anche perché entrambe usano delle tecniche analogiche in questo caso addirittura delle tecniche delle antiche tecniche di stampa in un progetto anche questo del 2018 tutto dedicato al Botticelli è un progetto stampato in emulsione ai sali d'argento su carta d'acquerello anche di questo progetto ho visto gli sviluppi ho visto le stampe le originali ed è un peccato vederle proiettate così perché queste stampe sono degli oggetti con una loro fisicità molto forte sono appunto carte d'acquerello su cui viene passato uno strato di emulsione ai sali d'argento viene fatta asciugare poi viene trattata più o meno come una carta da stampa tradizionale in camera oscura e porta dentro l'immagine questa sua corporeità questa sua consistenza questa sua trama che agisce con la trama del quadro agisce con la pittura come prestando un altro supporto un altro corpo a queste figure che per noi sono figure ossessionanti nel nostro immaginario collettivo tutti conosciamo le figure di Botticelli tutti riconosciamo le figure del Botticelli tutti ci riconosciamo nell'arte del Botticelli lo stesso Warburg è stato il grande padre di questo riconoscimento quando ha studiato soprattutto i quadri di argomento pagano di Botticelli restituendoli al suo ambiente al loro ambiente di realizzazione e svelandone in qualche modo le connessioni sia con il presente di Botticelli che con il passato dell'antichità di cui questi quadri portano le tracce in forma proprio di sopravvivenze questo progetto di Francesca Pietrisanti è tutto dedicato a queste figure che vengono isolate dai quadri che vengono ritagliate in qualche modo guardate da vicino così da vicino da diventare sfocate così da vicino da non potersi mettere a fuoco così ravvicinate da diventare delle sagome delle materie che delle forme materiche che stanno davanti ai nostri occhi esattamente come stanno negli occhi della nostra memoria e della nostra coscienza ci guardano da lì con le loro scorticature della carta con le loro imperfezioni delle tecniche manuali con la loro memoria di figure che sopravvivono dall'antico appunto e che vengono a rivivere in un altro mondo che è il mondo nostro dentro al quale se lo sappiamo guardare bene c'è anche il mondo loro forse non è un caso che entrambe le fotografe sia Giordana Citti che Francesca Pietrisanti hanno studiato e studiano storia dell'arte è un dato interessante perché le pone con una prospettiva rispetto al patrimonio dei capolavori del passato attiva diciamo conoscitiva discreta in un certo senso ma allo stesso tempo incauta e audace disposta a prendersi quello che spetta loro in questa generazione nuova rispetto alla grande e in un certo senso fin troppo rispettata dal punto di vista dei canoni arte del passato le riconosciamo tutte queste figure qua non sappiamo più appunto se ad essere sfocate sono loro oppure siamo noi che le riconosciamo eppure le conosciamo così poco ci voleva Warburg nel 29 a raccontarci chi erano queste figure qui a raccontarci chi era Botticelli quando le dipingeva quali volti metteva sui corpi di queste divinità come integrava il presente e il passato per esempio come ritraeva la donna sua contemporanea e metteva la sua testa sopra il corpo della Venere o sopra i corpi delle grazie come fotomontava in un certo senso il mondo ideale e il mondo quotidiano il mondo del passato e il mondo presente come mascherava gli uomini della corte dei medici da divinità questi travestimenti divini in cui il giovane dei medici diventava mercurio e tutti in questa mascherata abitavano un tempo ideale in cui Botticelli riusciva a calarli e da cui noi in un certo senso con la fotografia li andiamo a stanare li andiamo a osservare andiamo a abitare anche noi quel mondo lì che appunto è anche il mondo nostro chiudo questa rassegna con Flora della primavera di Botticelli con un auspicio in un certo senso diciamo generazionale in qualche modo questa sera io chiudo il ciclo dei seminari del martedì probabilmente torneremo con altri progetti ma mi piaceva chiudere con uno sguardo sulla fotografia di oggi e di domani in un certo senso con uno sguardo su una generazione nuova che si mostra estremamente consapevole di questo rapporto con il patrimonio del passato e a cui in qualche modo spetta il compito di raccontarci questo strano presente io ringrazio tutti e tutte per l'attenzione anche per l'affetto dimostrato in questi seminari non riesco mai a vedere in tempo le chat e a rispondere ma mi prendo questo minuto veramente per ringraziare e salutare tutte le persone che mi hanno espresso la loro solidarietà la loro simpatia che hanno apprezzato questi momenti di riflessione speriamo di nuovo di condividerne degli altri grazie a tutti grazie a tutte e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti